Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Game Play It Oggi siamo su Castle Flipper Beh, diciamo che dopo House Flipper Qui andiamo a innovare dei castelli Questo è un gioco, diciamo, la prima volta che mi capita Perché questa sera ho ricevuto questo codice di questa demo È una demo, il gioco uscirà entro il 2020 E sarà in italiano Non è in italiano adesso Ce lo giochiamo così, lo proviamo velocemente E poi vedremo, trarremo le conclusioni Dicevo, la prima volta che ricevo un codice così a tradimento Lo porto immediatamente, lo faccio insomma Anche perché lo sviluppatore mi ha detto Guarda, se ti va un video domani mi faccio va bene Facciamolo subito, va bene Allora, al momento possiamo prendere un profilo E andiamo a vedere Sembra essere molto interessante perché riprende appunto House Flipper che mi è piaciuto veramente tanto Poi ovviamente è un gioco che a lungo andare magari viene un po' Va preso a piccole dosi perché è veramente rilassante Allora Quello che tu vedi ora è solo un piccolo pezzo di terreno Che tu hai ereditato dal tuo nonno Non potrebbe sembrare molto grande ora Ma io credo che presto diventerà un meraviglioso, maestoso regno Ma per ora prova a fare il tuo primo lavoro Va bene, andiamo qua Abbiamo questa cosa qui che, vabbè, colpo si può pulire Ma non possiamo farlo ora perché bisogna andare qua Questo è una bacheca Controlla sempre se qualcuno ha bisogno del tuo aiuto Per guadagnare qualche bonetta d'oro Prendi gli incarichi e premi Q per vedere il lavoro che tu hai scelto Ora, leggiamo Il nostro campo è stato distrutto da un uragano Il governo locale, insomma Vuol provvedere a ricostruire i tetti mancanti Ma le barriere, le palizzate Sono ancora tutte sparse in giro È un casino For the work in the field Dovremmo farci il lavoro o no Insomma, va bene Dobbiamo pulire della spazzatura Riparare la palizzata Riparare le fences Quindi i recinti Riparare il magazzino Rimuovere le abbe Bello, mi piace perché c'è questo discorso qui Della scalata Verso Adesso andiamo a fare il lavoro Cioè non si inizia dal castello, insomma Ma si inizia, diciamo, dai piccoli lavori di manutenzione Per guadagnare dell'oro E poi magari comprarci un nostro terreno Come si faceva anche in House Flipper Ora dobbiamo raccogliere Vabbè, ladder, la scala Per entrare sulla scala Premi space bar La barra spaziatrice Per scendere Premi space bar Ok Quindi qua si può salire con barra spaziatrice No, mi l'ha appena detto Ok, infatti E vediamo Graficamente siamo impostati a ultra Ma al momento direi che le montagne sono fatte un po' così Con questa nebbiolina qui Uh, ci sono delle cose mancanti qua Che dobbiamo provvedere poi a procurarci Saltiamo giù Non dovrebbe succedere nulla Distruggi Eh, il lighten distruggi Va in destroy mode Eh, ok Ok, vedete che andiamo sulla destroy E destroy che cosa? Perché devo distruggere un albero, no? No Prendi Ok, no? Eh, faccio pulisci E vediamo di pulire Insomma Le cose che sono state lasciate in giro Vedete che intanto Sale Salve gallina E le bottino Premi e per prendere Ah, li mettiamo qui Sì, è un po' Un po' diciamo Ottimistica questa cosa A meno che non ci chiamiamo Hulk Di secondo nome Ma va bene Per riparare un oggetto Trascina una parte Sull'ologramma blu Va bene Allora Continuiamo a riparare questa cosa Al momento è un prendi oggetto Posizionalo lì Insomma Non Premi il tasto del mouse Io pulisco Pulisco tutto Vediamo se Sì Ah, bellissimo Perché ce li sta mettendo Anche in inventario A questo punto Non li sta solo Buttando Li sta proprio mettendo Nell'inventario Quindi bello 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 Poi Insomma Vedremo Perché qua infatti Vedete Possiamo prendere Un po' di assi Per andare a riparare Lo steccato Ecco Eh Un po' come si compravano Le mattonelle Su House Flipper Si andavano a posizionare Quindi Va bene Allora Andiamo avanti Continuiamo a prendere Queste assi piccoline Così ripariamo La palizzata È carino Perché Benché Nell'ultimo periodo Negli ultimi mesi Anche volendo Negli ultimi anni Non Sampi cosa inventare Stam facendogli tutto Devo dire Che io sono Un particolare Stimatore Di titoli Di questo tipo Perché comunque Eh Ognuno ha il suo perché Diciamo Ecco Mi piace Dire così In altro Vediamo anche Dei sassi Adesso Vedete Ah ok Premendolo una volta Ci mette in questa modalità Di salita E andiamo Vediamo se riusciamo a mettere Queste cose E to place Doesn't fit Ah non va bene Perché questa qua È un asse da steccato Posso mollarla Sì grazie No vabbè Ma scusami Le ho mollate giù Alla Alla brutto Vorrei Vedere se c'è un altro Steccato da sistemare Musica medioevale In sottofondo Vediamo Non vedo altri steccati Io da sistemare Però Io Le mollo qui Le cose Vediamo Intanto Puliamo anche Ah ok Senso speciale Premizetta Per usare Senso speciale E illuminerà Ok La spazzatura Le varie cose Ok Intanto Allora Liberiamo il terreno Da queste cose inutili E Diciamo che Dà meno nell'occhio Essendo comunque In questo stile Medioevale La pulizia Dell'ambiente Rispetto magari A un house flipper Dove È tutto più Più moderno Insomma E si riesce a vedere Effettivamente La differenza Di 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 resa Di una stanza In cui comunque Magari abbiamo Abbattuto una parete E così via Questo cos'è? Allora Crouch Puoi Ah Tasto Shift Control Scusate Control sinistro Ci accovacciamo E arriviamo qua Ok Ci sono dei forzieri Mentre esploro il mondo Ci sono Ok Con Oggetti nascosti All'interno Va bene Apriamo il chest Abbiamo trovato 1000 gold Siamo ricchi Ce li ha dati validi E li lascia lì dentro Va bene Ovviamente Non fa la scivolata C'è anche Vabbè Intanto Vediamo se c'è qualcosa Da fare qua Perché voglio usare i sensi Per capire se c'è qualcosa Che manca qui Beh Via questi Dov'è sistemare anche la palizzata Io adesso ho un po' di cose Da poter Sì Manca una colonna lì Che onestamente Non saprei dove andare a prenderla Sarà nascosta da qualche parte Ricordiamo Qua c'è stato un uragano Ma ho visto Che ci sono anche Delle Degli scenari In cui comunque Sono stati abbattuti Un castello Delle mura In base a Cioè Al In seguito a dei lanci Di Di Ballista Ecco Mi mancano le parole oggi Allora Io ho un po' di legna Ma non capisco Perché Clean No Voglio capire Come si fanno a mettere Queste assi Ah eccolo lì Eccolo lì Press E to take Devo capire Come funziona Il Ok Questo lo piazziamo Ok Dobbiamo fare Rimuovere i grandi alberi Quindi due grandi alberi Quindi prendiamo Il destroy item E abbattiamo L'albero Ah proprio così Istantaneo Ricordiamo Questa è una demo Quindi non giudichiamola Da questo Scusi Ma No La gallina Non si può abbattere Due grandi alberi Il secondo albero Qua Poi Poi Perfetto Alberi è battuto Dobbiamo riparare La palizzata Possiamo prendere Queste assi Press E to take Ah Dobbiamo usare queste Ok Il legname in alto Non ho ben capito Perché ce l'ha messo lì Però va bene La cosa scomoda In questo caso È continuare a fare Avanti e indietro Però va bene Allora Uno E to place Ok Ok Ne possiamo portare Solo tre alla volta Però diciamo che ce l'abbiamo fatta E dobbiamo andare dall'altra parte Ripararne altre tre Quindi andiamo a vedere Dovremmo aver finito ormai Ci serve ancora Recuperare un po' di spazzatura Che c'è in giro Che poi ci guardiamo dopo Adesso saliamo anche dall'altro lato E vediamo che cosa succede Questo è il primo incarico Che ci permette di guadagnare un po' di Un po' di denaro Non va bene Perché non va bene Perché ho sbagliato a prendere ancora Devo prendere queste Sì Mi sembrano Vabbè Sono Faccio le cose E mi dimentico di averle fatte Ma va bene Allora Allora Uno Due Tre Missione completata Quasi tutto Abbiamo fatto In sette minuti Vai a casa Perché non ha senso stare lì E vediamo un attimino Come si evolve il gioco Ovviamente poi Sarà da valutare Sul lungo periodo E poi il gioco uscirà Quest'anno Congratulazioni Completato tutto Prima incarico Ora Prenditi cura Della tua Cortila Insomma Tieni premuto Tab Per vedere Tutte le possibili meccaniche C'è la cleaning mod Ok Siamo qui Ok Clean Vabbè Possiamo pulire Il nostro terreno Adesso bisognerà capire Che cosa serve Il nostro Giardinetto qui Ma sicuramente Avrà un suo perché Perché Ricordiamo In House Flipper Avevamo la nostra casa Che non serviva a nulla Però ci dà la possibilità Magari con Di crearci O di acquistare E rendere Casa nostra Un Ruder Magari acquistato Giusto così Per vanità Insomma Allora Spazzatura Abbiamo ancora Qualcosina Ma abbiamo ormai Recuperato Praticamente Tutto Dobbiamo Distruggere I carretti Manca ancora qualcosa Da recuperare Che sono questi due Dovremmo aver finito Adesso Infatti Andiamo in modalità Distruggi E distruggiamo Le panchine Che ce ne fregano Delle panchine Alberi Via gli alberi Ci dà Ci dà Dei soldi Distruggendo gli alberi Posso distruggere Anche La Stein No 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 Stein Non so cosa sia Ma Non volevo Abbattere gli alberi Ma onestamente Stein Non so cosa sia Ma Avvieggio tutto Ok Mi scusi Non lo so Sarebbe da Sarebbe da vedere Un attimino Che cosa Vuol dire Stein Le macchie Ah Dobbiamo pulire Le macchie Ok Ok Intanto io Ho demolito il capanno Ok Le macchie Stein L'ho cercato proprio In tempo reale Perché non sapevo Cosa volesse dire Però Ho demolito il capanno Ma vabbè Tanto non è udare Non Non c'è bisogno di E le altre macchie Dove sono? Che non le vedo Io tengo per mutua Ah Usiamo questo Giustamente Ah qua Si Ah si Due macchie Tre macchie Mi calcola qua Va bene Abbiamo completato L'incarico Va bene Quindi Quindi Va bene Andiamo qua davanti Abbiamo un lavoro Da fare Un altro Lavoro Da fare La costruzione Base Ho sentito Ho sentito che tu Ti stai dando Lavoro di costruzione Forse ti piacerebbe Imparare alcuni Nuovi trucchetti Abbiamo un piccolo Lavoro da fare Così Se ti va Puoi aiutarci A imparare qualcosa In più Vieni alla corte Costruisci la tua prima casa E poi Metti Diciamo Il Ok Quindi Quindi Ce ne possiamo andare Press Q Ok Building Basic Ok Go Andiamo a vedere Di costruire Nella nostra prima casa Costruiremo anche Nel medioevo Ora Imparerai Le tecniche di costruzione Sono Sarà un'abilità Molto utile Se vuoi sviluppare Il tuo Regno Vai Sull'ologramma verde Segui La direzione Allo schermo Ok Old Tab Build Upgrade Build Mod Ah Usiamo la legna Per fare sta roba Aha Se voglio fare No 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 Foundation No No Da qui No Mi fa Perché Build A furnace Di house Allora Foundation No Back Ah ok Upgrade No Non me lo fa fare Quindi dobbiamo andare Indietro Build Almeno un po' Alla dynasty Cosa Foundations Ah ok Così Ah ok 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 Ehm Build Air Fist Vabbè Piazziamole Dove ci dice il tutorial Quindi Questa Ok E un'altra Ok Ora Shiftiamo Alla costruzione Di pareti Molto semplice Devo dire Ehm Voglio costruire wall Wall Ok Uno Due Tre Quattro Ah è solo un progettino Questo Allora Doorway Ok Poi Un'altra parete Con la finestra Per la stavolta Ok Un'altra parete Con la finestra E Un'altra parete Con la finestra Ok Dobbiamo fare il tetto Il tetto Così Giusto Press 5 Ah Premi 5 5 Premo 5 Posiziona Lì Ok Uno Due Tre E Quattro Vediamo un po' Ma è molto interessante Sta cosa Anche se va bene Poi bisogna vedere Come la faranno Però Premi 6 Lanta È molto interessante Ricorda appunto Dynasty Medieval Dynasty Ok Mo' la porta Dove cacchio Ah Premi 7 Ok Porta Eto interact Ok Press tab Press upgrade mode Ok Ok Vood Press Ok Premi L Su To upgrade it Ok Ah ok Posso in qualsiasi punto Premi Meno interessante Mi sta scalando il legno Sì Uno di legname In ogni In ogni zona Molto interessante Per quanto Semplificato Però Anche qua Ok E quindi Ah il pavimento Giustamente Vediamo se me lo fa Ah no no Ok Vai in un unico pattern Allora Per inserire La mobilia Apri L'equipaggiamento Premendo la I E seleziona Il tipo di Arredamento In cui sei interessato Premi L'icona due volte Per piazzare Ok Puoi anche creare Il tuo set Personalizzato Con Gli oggetti Più utilizzati Clicca e trascina Va bene Va bene Premi I Per l'inventario Bedroom Beds Bello E qua lo paghiamo a soldi Quindi dobbiamo piazzare un letto Che poi è piccolo No non va bene Mi serviva qualcosa di un po' più Più grosso Forse questo Ok Lo piazzo Ok Poi dobbiamo pensare Un comodino Quindi Comodino Così Cabine No Di quello che si apre Con le doppianta Che è questo No Che cacchio è Questo No Questo No Dove cavolo lo trovo Vabbè Intanto guardiamo Quello dei vestiti Perché Rotate Vediamo Vediamo Non è questo Eh mannaggia Dov'è 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 Allora È un modello singolo Quindi così No Io onestamente Non Non Saprei Perché al momento Abbiamo solo Potrò piazzare Quello che voglio Forse Però Doppianta Questo Io lo metto lì Vediamo se me lo calcolo Valido lo stesso Girato giusto Così Ok E poi ci piazziamo Un armadio Di quelli Di questi qua Sì Ma se lo fa poi andare bene Completato Ci ha dato 3000 Monetari E abbiamo Completato Un'altra fase Del Tutorial All'iniziale Ok Ricorda Che Solo una piccola parte Di quello che ti aspetta Nel gioco completo Puoi continuare A esplorare E iniziare a costruire Il tuo villaggio Da ora E poi anche Salvare i tuoi progressi Aggiungi il gioco Alla wish list Di steam Per Rimanere Informato Su Quello che è Il gioco Allora Area Allora Qui E puoi Firmare Poi Acquistare terra Espandere la tua proprietà Ok Ah bello Si possono acquistare I nuovi terreni Dove espandere la nostra proprietà Qua abbiamo L'inizio Qua si va avanti Un po' in modalità libera Insomma Quindi Questo Era Castle Flipper Devo dire Che se Non mi avessero Diciamo Invitato Figata A provare Questo titolo E Faccio un video Probabilmente Magari Sarebbe rimasto Abbastanza in sordina Per me come gioco Però devo dire che Non è malaccio Se siete appassionati Comunque Sfegatati Di quei giochi Di costruzione Questo è Senz'altro Un gran titolo Per il resto Rimaremo A vedere Che quando uscirà Che prezzo verrà E Se siete interessati Ovviamente Vi chiedo Di Mentre salto come pazzo Di lasciarmi I commenti qua sotto Di quello che pensate Del gioco E noi ci sentiamo Al prossimo Videogameplay Alla prossima ragazzi E ciao ciao